Insegnante aggredito Una condanna Ad una settimana esatta dall'aggressione di un insegnante all'interno di un istituto scolastico della città Arriva la condanna per il 37enne Giuseppe Schembri Due arresti a Savona grazie alla denuncia dell'antiracket di Gela Gli ultimi arresti per irregolarità e anomalie nella gestione dello smaltimento dei rifiuti Ha portato all'arresto di alcuni imprenditori Strage Polara Assolto Givlirras Vent'anni a Orazio Paolello e assoluzione per Filippo Givlirras Il gruppo del Tribunale di Caltanissetta ha emesso la propria decisione su uno degli sviluppi investigativi Legato alla strage della famiglia Polara Ex province, diffidati vertici della Regione Comitati, associazioni e sindacati diffidano il Presidente della Regione e i suoi massimi rappresentanti Per non aver rispettato la volontà popolare per il passaggio di Gela all'area metropolitana di Catania Diabete, due medici per 4.000 pazienti Liste d'attese interminabili per i controlli di routine Molto spesso si rinuncia anche alle visite di prevenzione Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale A una settimana esatta dall'aggressione di un insegnante in un istituto scolastico della città Arriva la condanna per Giuseppe Schembri Ha violato i domiciliari per recarsi nella scuola del figlio dove ha aggredito l'insegnante La scorsa settimana ha violato gli arresti domiciliari per recarsi all'istituto scolastico frequentato dal figlio Dove ha aggredito uno degli insegnanti Arriva la condanna per il 37enne Giuseppe Schembri Due anni e otto mesi di reclusione al termine del giudizio abbreviato Chiesto dalla difesa sostenuta dall'avvocato Flavio Sinatra Il legale già dopo l'arresto ha sottolineato che il 37enne avrebbe agito sulla spinta di un alterco Tra il figlio e l'insegnante che avrebbe strattonato il minore in aula Il giovane ha spiegato di aver subito una ferita al labbro Schembri In sostanza si sarebbe fatto giustizia da solo Al termine del giudizio abbreviato il PM Sonia Tramontana ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione L'irruzione a scuola dell'imputato è stata ricostruita dagli agenti di polizia del commissariato E ripresa dai sistemi di videosorveglianza interna Proprio i poliziotti hanno poi provveduto ad arrestarlo Un atto di violenza che ha fatto molto discutere già al momento del fermo Nel video poi diffuso dalla polizia Si vedono proprio le fasi molto concitate successive all'arrivo di Schembri nell'istituto scolastico Accusato di maltrattamento e stalking un uomo è stato arrestato dalla polizia L'uomo avrebbe pedinato la donna anche quando ieri si è recata negli uffici della procura Sono stati i poliziotti dell'aliquota a bloccare l'ex convivente proprio nei pressi del tribunale La donna ha raccontato di essere stata vittima di una lunga serie di violenze Minacce e vere e proprie persecuzioni L'uomo non si sarebbe fatto scrupoli neanche davanti alla figlia 15enne Nata dalla relazione tra i due L'arrestato ha già una lunga sequela di gravi precedenti penali anche per violenza sessuale Il provvedimento è stato emesso su autorizzazione dei magistrati della procura E' stata la donna a descrivere una quotidianità di vita diventata insostenibile Avrebbe imposto soldi ad un anziano per usufruire di bagni pubblici Collocati all'interno della villa comunale Garibaldi Davanti al rifiuto l'avrebbe violentamente aggredito E' stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Il 64enne romeno Ion Baltag che rispondeva anche di tentata e estorsione Furono i carabinieri ad arrestarlo dopo aver ascoltato il racconto della vittima L'anziano riportò diverse fratture Gli ultimi arresti per irregolarità ed anomalie nella gestione Dello smaltimento dei rifiuti ad Alassio in provincia di Savona Ha portato all'arresto di alcuni imprenditori Tutto nasce da una segnalazione fatta da 4 imprenditori siciliani Dell'associazione anti-racket Gaetano Giordano di Gela Vediamo Gli ultimi arresti per irregolarità ed anomalie Nella gestione dello smaltimento dei rifiuti ad Alassio Comune che fa parte della provincia di Savona Che ha portato all'arresto di alcuni imprenditori Nasce tutto da una segnalazione fatta da 4 imprenditori siciliani All'associazione anti-racket Gaetano Giordano di Gela Il presidente Renzo Caponetti rendendosi conto della gravità della situazione Ha segnalato il fatto alla questura di Savona nel mese di ottobre A quel punto è partita l'intagine della squadra mobile di Savona In collaborazione con i colleghi della mobile di Genova Attività culminata con gli arresti degli ultimi giorni Abbiamo visto che effettivamente tutto il mondo è il paese Le cose che avvengono qui da noi al sud avvengono anche al nord In questo caso non parliamo né di mafia né di indrangheta Né di camorra né di Sacra Corona Unita Ma stiamo parlando qua effettivamente sono colletti bianchi Non è neanche in questo caso concussione Ma qua c'è stata la vera estorsione Avvenuta nei modi che onestamente mi hanno stranizzato E mai avevo sentito cose del genere Bisogna assolutamente denunciare qualunque tipo di angheria Di vestazione subita E noi ci facciamo forte anche che a oggi Sono quasi 192 gli imprenditori che abbiamo accompagnato A oggi nessuno ha avuto ritorsioni Questa è la nostra forza Questa è la forza della FAI E noi continueremo sempre il nostro lavoro Seguendo le 360 gradi Soprattutto quando ci saranno poi inizieranno i processi per questa vicenda Gli ultimi arresti sono la conferma del lavoro Che svolge l'associazione anti-racket Non solo nel territorio gelese Ma anche in quello regionale e nazionale La nostra associazione che evidentemente è nata nel 2005 Come un'associazione localizzata per gli imprenditori gelesi Oggi ha un'attività che viene fatta nell'intero territorio regionale Evidentemente se scorrete alla lista dei nostri associati Provengono da tutta la Sicilia Oggi la nostra associazione ha costituzioni di parte civile Non solo a Gela e Caltanissetta Ma soprattutto nei tribunali di Agrigento Siracusa, Catania, Trapani Quindi è ovvio che c'è un maggiore respiro da questo punto di vista Ecco, contrazione Il fenomeno mafioso evidentemente non si può abbatterne dall'oggi al domani È chiaro Però dico che ci sia stata una contrazione Questo sì Di contro riceviamo maggiori richieste da parte dell'intera regione E adesso una precisazione in merito a servizio di ieri Sulle condanne inflitte agli imputati Per la morte dell'operaio Salvatore Vittorioso A causa di un refuso abbiamo erroneamente indicato Il nominativo di Antonio Viglianisi Il luogo di quello di Ezio Viglianti Imputato e condannato al termine del giudizio Ce ne scusiamo Strage Polara 20 anni per Orazio Paolello E assoluzione per Filippo G. Birras Il gruppo del tribunale di Caltanissetta Ha emesso la propria decisione su uno degli sviluppi investigativi Legati alla strage della famiglia Polara Durante la guerra di mafia Gli stiddari colpirono al cuore i rivali di Cosa Nostra Ammazzando Salvatore Polara e i familiari Vediamo 20 anni di reclusione ad Orazio Paolello E assoluzione per Filippo G. Birras Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Caltanissetta Ha emesso il proprio verdetto su una delle stragi Che segnò la guerra di mafia in città Quella che decimò la famiglia di Salvatore Polara Ritenuto l'allora braccio destro del boss Giuseppe Madonia Gli stiddari entrarono in azione facendo fuoco all'interno dell'abitazione Dove i Polara erano riuniti per il pranzo Per loro non ci fu scampo un bagno di sangue che non risparmio neanche la moglie e i figli presenti in casa Due di loro, quelli che evitarono la morte, si sono costituiti parti civili Nel procedimento con l'avvocato Tiziana Giardina Il Gup gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni E dovrà essere proprio Paolello all'epoca dei fatti Tra i vertici della stida risponderne il boss In base all'accusa avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell'azione di morte Una vicenda ricostruita nel corso del tempo Anche attraverso nuove dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Paolello è stato difeso dall'avvocato Maria Brucali Il Gup nisseno invece ha escluso un coinvolgimento di Gibirras E' stata accolta la ricostruzione formulata in aula del suo legale di fiducia L'avvocato Elio Lembati Il legale ha messo in dubbio il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori Che avrebbero condotto i PM della DDA di Caltanissetta A ritenerlo responsabile insieme ad altri stiddari della strage nell'abitazione dei Polara Per Gibirras invece i PM hanno chiesto la condanna all'ergastolo La Camera Penale Eschilo di Gela ha organizzato per oggi pomeriggio Un evento di formazione giuridica di incontro culturale sul tema dei delitti e delle pene Fin all'ergastolo stativo Presso l'ex chiesa di San Giovanni Saranno presenti tra gli altri gli avvocati Ventura, Scicolone e Donegani Il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Caltanissetta Emanuele Nicosia I rappresentanti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino Totò Cuffaro, ex Presidente della Regione Siciliana Sarà proiettato dopo gli interventi il documentario Film Spess Contro Spam Premiato alla Biennale di Venezia Nessun punto di incontro tra il commissario Rosario Arena e il sindacato Che segue l'avvertenza delle oltre 70 lavoratrici e la refezione scolastica Le attività verranno sospese da gennaio Non ci sono soldi in bilancio Lavoratrici e sindacalisti della Filcams CGL Anche oggi saranno in presidio davanti il comune Il commissario Arena non ci ha ricevuto Dice il segretario provinciale della Filcams Nuccio Corallo Ci ha riferito che è impegnato nell'approvazione del bilancio In sostanza rimane il taglio del servizio Per martedì è prevista una nuova protesta Comitati, associazioni e sindacati diffidano il Presidente della Regione I suoi massimi rappresentanti per non aver rispettato la volontà popolare Per il passaggio di Gela all'area metropolitana di Catania Vediamo Ancora non è chiaro il destino di Gela per quanto riguarda i liberi consorsi Dopo l'incontro fatto con il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a Gela Con il Comitato di Associazioni Gelensis Populi E il Comitato dello Sviluppo dell'area gelese Ad oggi non c'è nessun riscontro dopo quell'incontro La città di Gela è di fatto nel libero consorzio di Caltanissetta Ma di diritto ha completato tutto l'iter di passaggio Alla città metropolitana di Catania Dobbiamo ringraziare l'On. Di Paola Che si è messo immediatamente a disposizione del gruppo Gelensis E per suo tramite l'intero suo gruppo parlamentare 20 deputati regionali E cioè l'intera rappresentanza grillina All'interno dell'Assemblea regionale Pari quasi ad un terzo del numero dei deputati Ha sottoscritto questa interrogazione a risposta scritta Indirizzata al Presidente della Regione All'assessore Arramo E cioè l'assessore alle autonomie locali E chiediamo proprio con una risposta scritta Quindi nero sul bianco Cosa intendano fare Con riferimento in particolare alla comunità di Gela Ma anche con riferimento a tutte quelle altre comunità Che avevano scelto un ente intermedio diverso Rispetto a quell'originario di appartenenza Anche perché è una situazione ancora irrisolta Che permane da tempo Sì, noi diciamo sostanzialmente che Gela non è né carne né pesce Perché di fatto ci troviamo all'interno del libero consorzio di Caltanissette Per assurdo Se non avessimo avuto la fase commissariale Avremmo dovuto partecipare Dovremmo partecipare Alle elezioni Le cosiddette elezioni Delle ex province Su Caltanissette Mentre in realtà la comunità gelese Ha adempiuto a tutto quello che prevedeva l'iter di passaggio Dal libero consorzio di Caltanissette Alla città metropolitana di Catania Quindi abbiamo una situazione di fatto in un certo modo E la situazione di diritto che in realtà ci vedrebbe altrove Il comitato dello sviluppo dell'area gelese Attraverso una nota stampa Ha mostrato il suo rammarico per il silenzio Da parte dell'ente regionale e del passaggio di Gela Alla città metropolitana di Catania I comitati promotori di Gela Piazza Armerina e Niscemi Hanno diffidato il governatore della regione siciliena Nello Musumeci Il presidente dell'Ars Gianvranco Meccichè E il presidente della prima commissione Ars Stefano Pellegrino Si è svolta questa mattina un'esercitazione Avente come riferimento lo stabilimento petrolchimico di Eni Per testare procedure di comunicazione Tra le strutture operative previste dal piano di emergenza esterna L'obiettivo principale era quello di verificare il flusso delle comunicazioni Per l'attivazione dei livelli di emergenza del piano Attenzione preallarme, allarme emergenza C'è stato allarme Sono stati simulati scenari incidentali con impatto verso l'esterno In particolare l'incendio del serbatoio A tetto galleggiante con perdita di greggio Nel parco generale serbatoio della raffineria Ubicato presso l'isola 18 È stato attivato il livello di preallarme 2 Codice arancione In città solo due diabetologi Per circa 4.000 pazienti accertati Liste d'attese interminabili per i controlli di routine E molto spesso si rinuncia alle visite di prevenzione Sono alcuni dei dati emersi nel corso del convegno Sul tema il diabete nella terza età Prevenzione nelle complicanze e le ricadute sociali Il servizio di Angela Tilaro 4.000 casi di diabete accertati E solo due medici per gli ammalati gelesi Ancora dati impressionanti Ermergono sul fronte della sanità E non si riesce a capire come mai In una realtà così importante L'ospedale e i presidi dell'ASP Vengano privati del personale medico necessario A coprire le esigenze sanitarie dell'intera popolazione La provincia nissena non è certo sprovvista di medici Ma se da una parte si assiste ai continui incrementi Presso realtà meno importanti dal punto di vista del bacino d'utenza Dall'altra si assiste alla depredazione nella sanità gelese Oggi è saltato alla luce il caso della diabetologia Grazie ai dati e alle denunce emerse nel corso del convegno sul tema Il diabete nella terza età Prevenzione delle complicanze e le ricadute sociali I diabetici gelesi si sentono abbandonati Gli unici due medici diabetologi impiegati nella sanità pubblica Sono collocati uno presso l'azienda ospedaliere L'altro presso l'ambulatorio di diabetologia in via Butera I diabetici necessitano di controlli periodici Le liste d'attesa sono interminabili E gli ambulatori oltremodo affollati Anche parlare di prevenzione diventa un optional Per chi non può permettersi di ricorrere ad una visita privata Per bypassare i tempi biblici delle liste d'attesa Della sanità pubblica gelese Sono emersi tante problematiche perché sono subveniati tanti interventi di operatori ed altri Abbiamo registrato questi punti di debolezza Cercheremo di rappresentare con la CIS la funzione pubblica Che si farà promotore di questa carenza di medici E ci auguriamo che interverranno in un modo forte Con la direzione generale che subvennerà, credo e spero, a giorni E che possa focalizzare questa carenza di medici Soprattutto diabetici che si occupano di diabetologia a Gela E che possono raddoppiare, replicare Perché chiaramente quello che è emerso le liste d'attesa sono tantissime Gela è la città più popolosa rispetto ad altre E quindi bisogna attenzionare di più E' chiaro, non so che incidenza c'è in altre città Sulla provincia di Caltanissetta Quello che è emerso qua, dobbiamo pensare di potenziare Questi medici su Gela E quasi a confermare il sospetto di una cattiva gestione Dei medici da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta Arriva per gli utenti del pronto soccorso gelese Un bel regalo di Natale Con una delibera firma del commissario straordinario Maria Grazia Furnari Del direttore sanitario Marcella Santino E del direttore amministrativo Antonio Palazzolo E' stato ridotto il già precario organico Del più importante pronto soccorso della provincia Autorizzando il trasferimento di uno dei sette medici Emanuele D'Angeli torna in tv con Enrico Papi su TV8 Sarà protagonista della trasmissione televisiva Guess my age condotta da Enrico Papi In onda alle 20.30 su TV8 giorno 20 dicembre Il giovane illusionista, uno dei più talentuosi maghi italiani Ed è ideatore in Sicilia di ormai affermati format televisivi In onda nelle migliori tv dell'isola Torna nuovamente nella televisione nazionale Una manifestazione per rivendicare la continuità dei lavori E il completamento dell'opera Il 18 dicembre si gioca una partita importante a Roma Per il destino di questa provincia Bisogna portare a compimento i lavori riguardanti L'ammodernamento a quattro corsie della strada statale 640 Agrigento Caltanissetta Nella piena condivisione del monito lanciato dalle segreterie regionali I cantieri della CMC in Sicilia vanno tutelati in ogni modo Tenendo separate le vicende aziendali di carattere nazionale da quelle locali L'avvertenza infatti va gestita in Sicilia Con un'ottica territoriale improntata al più sano pragmatismo Per non privare l'isola di infrastrutture fondamentali E per non causare la perdita di ulteriori posti di lavoro Nel settore delle costruzioni La protesta è promossa dai segretari Feneal, Will, Filca, Cisl e Fillea CGL Francesco Mudaro, Nunzio Mangione e Francesco Cosca La strada statale 640 Agrigento Caltanissetta Non deve e non dovrà correre il rischio di fermare la sua corsa Trasformandosi nell'ennesima incompiuta Il settore edile vive una fase delicatissima Le prestazioni a sostegno del reddito non sono l'alternativa al lavoro produttivo Non possono colmare le lacune di un sistema economico fragile Nascono infatti come misura temporanea per superare una difficoltà Legata alla momentanea mancanza di lavoro L'assistenzialismo poi non rientra nel vocabolario quotidiano dei lavoratori Scrivono i sindacati C'è il rischio che il deserto industriale avanzi inesorabilmente Se gli investimenti in Sicilia diventeranno mera utopia Il territorio interessato non può sopportare questa ulteriore mortificazione Questo ulteriore colpo letale alla propria economia Se qualcosa non cambia il territorio è a un passo dal baratro Prende il cartellino rosso La strada degli scrittori deve necessariamente essere completata Evitando un'ulteriore offesa al comprensorio che è legato il suo destino a questa infrastruttura Affinché non si perdano gli altri posti di lavoro I lavoratori e il territorio difendono un diritto inalienabile Il diritto al futuro e il diritto al lavoro E' stata restaurata l'antica e preziosa statua di San Giuseppe con Gesù Bambino Da sempre venerata nella chiesa dei padri agostiniani San Giuseppe con Gesù Bambino saranno accolti domenica alle 17 Presso il largo del museo archeologico La statua in linea posizionata originariamente in una nicchia dell'altare maggiore della chiesa di Sant'Agostino Fu realizzata nel 1747 per devozione di Baldassarre Pellegrino La statua è stata restaurata dai maestri Antonio Rosaliateri di Partanna Grazie alla generosità dei devoti del Santo Dopo l'accoglienza si svolgerà la breve fiaccolata che terminerà nella chiesa di Sant'Agostino Seguirà la presentazione delle fasi di restauro Anche i fedeli della chiesa madre hanno voluto onorare la festività di Santa Lucia Con un particolare momento di fraternità diverso dal solito Ieri sera per concludere i festeggiamenti in onore della Santa I fedeli hanno dato vita ad un momento di preghiera in Vico Santa Lucia evangelizzando per la strada Un momento di raccoglimento che è stato accolto con gioia dai residenti del centro storico In particolare di Vico Santa Lucia E ora un'ultima notizia di sport Ultime ore di mercato in serie di calcio Il direttore sportivo Martello sta cercando di soddisfare le richieste fatte dal tecnico Brucculeri Per puntellare la rosa bianca-azzurra Martello con la dirigenziale di Missionari e con la questione stadio che è diventata un vero rebus Forse chiuderà solo con un giocatore Ad oggi sono sei calciatori che hanno lasciato la casacca della squadra Ed è evidente che servono gli elementi per completare la rosa Considerato che nelle ultime gare si è vista una panchina imbottita di giovani della Juniores Intanto la squadra si allena in vista della sfida interna contro il Castrovillari Ad arbitrare la sfida sarà il signor Francesco De Usagno di Faenza Fischio d'inizio della gara alle 14.30 a porte chiuse allo stadio Vincenzo Presti Grazie per averci seguito e arrivederci Grazie per averci seguito e arrivederci